Il Licata restituisce all'ammittente la prestazione della gara di andata e rifila alla Valle Grecanica lo stesso pesante passivo subito in terra calabra, con all'epoca al timone Pietro Infantino. Un 4-0 che porta la firma del funambolico Filippo Tiscione, oggi autore di una splendida tripletta che vale il primato in classifica cannonieri. Piena emergenza Under in casa gialloblu con balsamo che deve sopperire all'assenza di Manfrè, Rossella, Ignazitto, Santa Maria e Lomonaco. Dunque spazio a Valenti, Pira, Ortugno, Cricchio, Armenio, Cocuzza, Scopelli, Tigrillo, Vella, Tiscione e Riccobono. L'ex Giovanni Morabito si presenta invece a Licata con Maggi, Maltese e Dall'Oglio, Laurendi, Sanzone, Elefante, Citro, Orlando, Pirro, Iozzia e Fabio. Tre minuti e Tiscione fa subito vedere che è in giornata, seminando il panico tra le maglie avversarie e cadendo in aria dopo un tocco da dietro di un difensore ospite. Per l'arbitro il mediocre Vesperini di Macerata è simulazione. Gli ospiti prendono coraggio e all'ottavo hanno una buona occasione con Citro che impegna Valenti che si fa trovare pronto. Al quarto d'oro ha ghiotto occasione per la Valle Grecanica per portarsi in vantaggio grazie a un calcio di rigore che l'arbitro assegna per un fallo in uscita di Valenti su Pirro. Ma il porterino gialloblu, ormai un veterano nel parare rigori tra le muramiche, si oppone anche questa volta parando il tiro di Laurendi e lasciando il risultato sullo 0-0. Gli ospiti risentono negativamente dell'errore dal dischetto e lasciano l'iniziativa Licata che prende il dominio del gioco. Al ventunesimo punizione di Riccobono che si spegne di poco alta sulla traversa. Al minuto 32 la gara si sblocca grazie al solito tiscione che si ripete dopo il bellissimo gol di Cosenza con un altro tiro a giro che non lascia scampo al giovane Maggi. Il forte numero 10 potrebbe ripetersi poco più tardi ma dopo un bello scambio con Riccobono il tiro di sinistro è malcalibrato. Al quarantesimo ci prova Vella da fuori ma la rasoiata dalla distanza lambisce il palo. Si va al riposo con il risultato di 1-0 ma nella ripresa il copione non cambia con il Licata che ben presto dilaga. Quarantottesimo fuga sulla sinistra di Vella, palla per Scopelliti che al volo impegna Maggi che si rifugia in angolo. Al cinquantacinquesimo c'è il raddoppio, tutto nasce da Grillo che ruba palla a centrocampo, filtrante perfetto per Tiscione che trafigge Maggi per la seconda volta. La valle grecanica accenna una reazione, al cinquantasettesimo ci prova Maltese di testa ma Valenti chiude bene sul primo palo. Ma ben presto arriva il trisset e sempre Tiscione protagonista con un perfetto sinistro su cross di Vella che manda in visibilio il Liotta. Gara ormai in cassaforte ma giallo-bru non ancora paghi del risultato. Sessantatresimo Tiscione ci prova anche di testa ma Maggi blocca sicuro. Sessantaseiesimo tutto parte sempre dai piedi dell'onipresente Tiscione che ne scavella, che trova Scopelliti tutto solo in aria per il 4-0. Valle grecanica alle corde come un pugile suonato. Altri due minuti ed ennesima sgroppata di Maurizio Vella sulla fascia, pallone basso su cui ci mette una pezza elefante con incorvaia pronto al tapin vincente. All'ottantaduesimo potrebbe arrivare il pocherissimo ma il bel colpo di testa di Albeggiano non c'entra alla porta. Al novantesimo ultimo sussulto per la valle grecanica con Pirro che ruba palla ad Armenio ma c'entra il palo da ottima posizione. Si conclude quindi tra gli applausi del Liotta questa sfida che proietta i ragazzi di Mister Barsamo a ridosso della zona playoff. Domenico arriva la battipaiese e sfida crocevia di un'intera stagione.